Noi Naci69Trading e il mio blog è videoripetizioni.com Che cosa sta succedendo a Bitcoin? Quindi facciamo un breve video di analisi tecnica, primo obiettivo Secondo obiettivo vediamo che cosa ci dicono i nostri indicatori riservati di trading, infinity e sniper, detto anche il cecchino Terzo obiettivo ti faccio vedere la novità, gratis, sperando di darti valore aggiunto per i prossimi mesi Il gruppo pubblico aperto a tutti, AC69 Trading su Telegram dove sei invitato, sei invitata, gratis Dove condividiamo, mi piazzo quassù in alto, mi piace stare nell'angolo Dove condividiamo i nostri risultati di trading che stanno andando molto bene Perché quando il mercato va su o anche quando va giù si guadagna sempre col trading Prendiamo il grafico e voglio iniziare subito con te Questo è il grafico di Bitcoin con questo grafico a 6 mesi Ho aspettato un po', lo dicevo nel gruppo Facebook AC69 a tutti i miei studenti Dico aspetto un attimo a fare un video perché? Perché oggi chiude la candela semestrale di Bitcoin Stiamo esattamente a metà dell'anno Come puoi vedere qua nei gruppi di trading AC69 riservati In particolare nel gruppo di trading coaching 1 to 1 Dove c'è il nostro responsabile della formazione Marco che ringrazio e saluto Sta facendo un lavoro eccezionale solo con 9 studenti E chi entra nei nostri gruppi riservati avrà anche questa esperienza di coaching 1 to 1 per il trading Qui parlavamo proprio delle candele engulfing Quindi l'esercizio che proponeva il responsabile della formazione era individuami In questo caso in un time frame mi sembra 15 minuti su wave stavamo facendo trading Le candele engulfing Ora se hai fatto i miei corsi di trading saprai bene questo qua in particolare Il primo e anche il secondo, quelli con i gabbiani Saprai bene che una candela engulfing è una candela molto particolare Quando è bullish che è verde è una candela che in genere nel trading niente è sicuro al 100% Una questione di probabilità Torniamo al nostro grafico Saprai che una candela engulfing è quando copre molto più Quindi la maggior parte in questo caso la raddoppiata Vedi questa candela qua sul 6 mesi Questa qua vedi Giotto come fa i cerchi perfetti Copre esattamente più del corpo, del body, quindi non i wick, i gambi Ma del corpo della candela precedente Che significa? Significa che in genere non è sempre detto, è questione di probabilità Ma quando c'è una candela engulfing In genere le candele successive potrebbero spingere verso il basso Ragionamento totalmente diverso Se ci fai caso, guarda È questa candela Vedi qua Era esattamente la candela semestrale che aveva chiuso a gennaio 2019 Quindi da giugno 2018 al primo gennaio 2019 Vedi questa candela che cosa ha fatto? È verde È engulfing Perché guarda, vi faccio lo zoom Tanto sui 6 mesi sono poche candele Vedi questa candela qua Era molto più grande Forse più del doppio della candela precedente In questo caso è verde Questa è una candela engulfing E come puoi vedere il prezzo di bitcoin che ha fatto Un po' ha corretto Ok? Quindi da 11.142 dollari È andato a finire a 6.900 dollari Ma poi è andato su Ok? Qui è molto diverso Vuol dire tutto e non vuol dire niente Perché stiamo su 6 mesi Ma se hai fatto i miei corsi di trading Ti invito a farli Se non li hai fatto Perché costano veramente una birra 9 euro, 12 euro Insomma sono accessibili a tutti L'obiettivo non è guadagnare con i corsi di trading Ma trasferire a te che sei dall'altra parte Conoscenza Saprai che una candela engulfing Ha il suo perché Ora questa è la candela sui 6 mesi Questa qua esattamente E come vedi È una gigantesca candela engulfing Che raddoppia almeno Copre almeno per il doppio Il body, il corpo della candela Di 6 mesi precedente su bitcoin Quindi che significa? Il grafico parla da solo Questo è il piano di trading Bearish per bitcoin Il grafico parla solo perché Perché non è detto al 100% Perché nella storia di bitcoin Magari prendiamoci Guarda BTC IUSD Ci prendiamo esattamente All time high story Index Ok Così ci vediamo tutta la storia di bitcoin E se ci individuiamo Mettiamoci auto Le candele E anche logaritmico forse Così ci aiuta Le candele engulfing Nella storia di bitcoin Come vedi Inizia la storia Luglio 2010 Era un'estate calda Ok E le candele engulfing Ce ne sono state Vediamo se le individuiamo al volo E engulfing Vero e proprio Ce ne sono state Ce ne sono state Due Forse tre Forse anche questa c'è stata Ok Che era un engulfing bullish Come vedi è verde Copre molto di più Del body Del corpo della candela Che era rossa precedente Infatti c'è stato un movimento rialzista Quindi prima volta Ok Guarda che belluno Seconda volta Eccola qua Altra candela Bullish Engulfing Proprio che ingolfa Che spinge verso l'alto E in effetti Il prezzo di bitcoin È un po' corretto E poi è andato verso l'alto Fino a toccare L'all time high Di 69 mila dollari Ora oggi Che spero Riuscirò a pubblicare questo video C'è una candela Sui sei mesi Che è Anche essa Engulfing Ed è anche Potentemente Engulfing Ora Al 100% Il prezzo di bitcoin Crawlerà Non è detto Perché ti ricordo Anche il piano Bullish Per bitcoin E per questo Ti invito a guardare Dov'è Questo qua Di video Che ho fatto La settimana scorsa Tornato dal mare Ero esauusto Però mi sono detto Devo buttare fuori Questo video Perché ci tengo E quando si verifica Questa condizione Sul time frame settimanale Di bitcoin Tutte e tre Le precedenti volte Avevamo toccato il bottom Quindi è un discorso incerto A questione di probabilità Quindi questo è il piano bullish Perché nel trading Serve sempre Due piani Anzi tre Non faccio niente Entro long Entro short Quindi questo è per entrare long Anche in ottica di investimento E piano di accumulo Guarda di questo video Bitcoin Dov'è il bottom Il fondo A proposito Se ti piacciono questi video Pollice all'insù Per piacere Perché mi fai capire Che ti piacciono Quindi clicca qua E ti ho messo pure io Ok E condividilo E iscriviti gratis Al canale Con la campanellina Seconda cosa Questo è il piano bearish Un altro piano Potrebbe essere anche Aspetto Non mi sento di investire adesso Aspetto Vedo che succede Che non è tutto sbagliato Adesso Non andare via Perché vediamo Che cosa dicono Gli indicatori di trading Quindi qui abbiamo Una candela ingulfing Però attento Mentre le prime due candele Una e due Quest'altra candela qua Questa terza candela Zack Vedi che brutto È bearish Quindi è rossa Però è sui sei mesi Te mi direi Leo Leo di AC69 Trading È sempre così? Io ti dirò No Non è sempre così Perché ci sono casi Di candela ingulfing E noi le sfruttiamo Spesso Nei time frame Di 15 minuti Per trovare confluenza E entrare Longo o short Con Leo E portiamo a casa Discreti guadagni Sia noi Che tutti i ragazzacci Che stanno Nella banda di trading Nei gruppi riservati Non sempre Al 100% Indica Ok Un movimento Nel verso Dell'engulfing In questo caso Però sappi che A meno che Questa candela Sui sei mesi Di bitcoin Non ci sia Un mega Un mega Rimbalzo E chiuda Questa notte A luna di notte Orario italiano Intorno ai 34 35 mila dollari Allora sappi Che questa è una candela Ingulfing Ok Prima di vedere Che cosa ci dicono Sniper Infinity Guardati questo Andiamo su Time frame Settimanale Ok Ti faccio vedere Questo è il nostro Infinity Lo avevo disattivato Diamogli tempo Per ricolorarci Le candele Questo è su Time frame Settimanale E come vedi Infinity Ci prende ragazzi Perché Infinity Ci aveva dato il sell Per chi ha preso I miei corsi E è iscritto Nel gruppo Riservato Facebook È gratis Poi i gruppi Telegram Sono a pagamento Perché credo E spero Che stiamo dando Eccellente valore aggiunto E non sono gruppi Che ti invito A entrarci Entrate tutti No Sono gruppi Molto Selettivi Quindi non è che Faccio entrare tutti In genere Ne entra massimo Uno o due studenti Al mese Non di più Perché poi Ti seguiamo bene Nel coaching One to one Nell'obiettivo È darti valore aggiunto E renderti un trader Profittevole Qui il nostro Indicatore Infini Ci aveva dato Il sell Addirittura La settimana Che va dal 25 Aprile al 2 Maggio Vedi sell Grosso Ok Vedi Sell grosso E in effetti Bitcoin Qua stava Intorno ai 40 Mila dollari Ancora Non ci ha dato il buy Ma una cosa Molto interessante È il mensile Ti volevo far vedere Nel mensile Che cosa è successo È una cosa Che è un'arma A doppio taglio Nel mensile Ovviamente Ci dà rosso Ci dava rosso Già dal mese Di dicembre 2021 Cioè ti diceva Infini Del nostro indicatore Riservato Leo Vendi Perché qui Va giù Qui va giù È tanto Quindi vedi La prima candela Chiusa sul mensile Rossa A dicembre 2021 Con bitcoin A 45 mila dollari 46 mila Se ti ricordi Ti avevo fatto anche Il video qua Sul canale youtube Perché io non mi tengo Niente Ho un difetto Che credo sia Spero anche Un mezzo Pregio Perché non mi tengo Niente Adesso non dico Un cazzo A nessuno Così mi comprate Tutti gli indicatori Entrate di massa No Non è quello L'obiettivo Arricchirsi Con gli indicatori O con i gruppi Riservati L'obiettivo È dare valore Aggiunto A te che sei Dall'altra parte Quindi se queste informazioni Ti piacciono Metti un pollice All'insù E iscriviti gratis A questo canale Questo lo avevo detto E trust the indicator Bisogna fidarsi Degli indicatori E infatti La prima candela rossa Infiniti Ci diceva Vendi E adesso Se avessimo tutti Dato retta Io gli ho dato retta Con una piccola parte Del portafoglio Non tutta Peccato Adesso stavamo Un più 67% Potevamo ricomprarci Quasi il doppio Di bitcoin Una cosa interessante Che ti volevo far vedere Sul time frame mensile È la banda di bollinger Che con matte Che ringrazio E saluto Abbiamo aggiunto A infinity Inclusa Come vedi Questa candela Mensile Ha toccato Esattamente L'estremità Inferiore Della banda di bollinger Le bande di bollinger Qua non hanno spalancato La bocca Vedi Sono quasi orizzontali Ok Questa banda di bollinger Ha questa piega Qui Quando fa così In genere Che succede Indica Quando le candele Passano Da la banda di bollinger Superiore Passano Rimbalzando un po' Vedi Nella banda di bollinger In mezzo Passano Alla banda di bollinger Inferiore Indica un cambio trend Quando è che ci ha indicato Un cambio trend Quando le candele Hanno rimbalzato Nella banda di bollinger Questa linea rossa Che vedi qua Ok Nella banda di bollinger Mediana Alla metà Hanno rimbalzato Ok Appena fanno così La prima volta Ti dice Leo Occhio Ragazzacci Che sta dall'altra parte Occhio Potrebbe esserci Un cambio trend Questo ragionamento Vale sia per Bullish Quindi verso l'alto Ma anche verso il basso Infatti Ha cambiato trend Dove si è affermato Guarda caso Bitcoin Si è affermato All'estremità Inferiore della banda di bollinger Ora bisogna vedere Che cosa decide di fare Come vedi Forse è la prima volta Che tocca La banda di bollinger Inferiore Bitcoin Non era mai successo Vedi anche qua Che eravamo intorno Ai 200 dollari Comunque non ha mai toccato Fammi cancellare Questi disegnacci Non ha mai toccato La banda di bollinger Inferiore Neanche qua Ok Neanche a novembre 2018 Quando era a 3200 dollari E c'è stato un crash Tremendo Qui c'era il covid crash A marzo 2020 Non ha toccato La banda di bollinger Quindi La banda di bollinger Sul mensile Quindi significa Che questa situazione Si evolverà Da qui a mesi Forse anni Ok Non è che adesso Nel giro di uno Due mesi Schizza a 100.000 O crasha a mille Ok Fatto sta però Che qui Ha toccato La banda di bollinger Inferiore Quindi ci sta Per essere una strozzatura Nella banda di bollinger Potrebbe anche essere Che faremo una cosa del genere E poi vediamo Che verso prende Io la banda di bollinger Personalmente Ci vado a nozze Perché mi piacciono In maniera particolare Mi danno Tante indicazioni Nel prossimo video Se ce la faccio Dello pubblico Domani O nei prossimi giorni Me ne andrò anche in vacanza Se ce la faccio Pubblicherò Anche qualcosa Della vacanza Perché mi piace Farti vedere Anche dei posti Dove andrò Magari con Un'introduzione iniziale E proviamo a fare Anche qualche video Da un'altra parte Del mondo Fuori dall'Italia Vediamo se ti piacerà Spero di darti Valore aggiunto Se ti va E se è interessato A gruppi riservati Cioè un solo posto Per il prossimo mese Scrivimi una mail A daci69 Trading Chiocciola Gmail Punto go E' un'email normalissima Di persone normali Come siamo Siamo dei trader Siamo degli studiosi C'è il responsabile Della formazione Marco E' una persona Molto molto in gamba E ti seguirà Nel trading E nel coaching One to one Cioè Matteo E' responsabile Di ricerca e sviluppo E anche Degli indicatori E forse Chi lo sa Apriremo anche Una sezione Bund Dedicata proprio A Futures A Bund Non ha a che fare Con le crypto Ma un grafico E' sempre un grafico Il trading E' sempre trading E vediamo un po' Se troveremo Una persona Che io ho già In mente Che sarà Il responsabile Di questa sezione Ok Vediamo se Fischiano le orecchie Al nostro amico Milanese Mannaggia Che saluto E che ringrazio Quindi Per ora Spero di averti Dato un valore aggiunto Ultima cosa Non meno importante Oltre ai corsi Che trovi link In descrizione E insomma Sono scontatissimi Con lo sconto massimo Prenditi pure Quei corsi gratis Così non Non li perdi Ti volevo far vedere Dov'è Eccolo qua Il nostro gruppo Eccolo Che si chiama AC69 Trading Bitcoin Crypto Lo trovi proprio come AC69 Trading Su Telegram E qui pubblichiamo I nostri guadagni Vedi Rispetto per The King Io l'avevo detto Questo pomeriggio Purtroppo Ho avuto poco tempo Oggi per fare trading Però ho fatto un più 10% E sono molto Molto soddisfatto Su Bitcoin Perché In realtà Il mio piano di trading Era di entrare Long a 18.600 dollari Spaccati Dollaro più dollaro meno Poi però Che è successo Sniper Il nostro cecchino Veramente un cecchino Contro coglioni Mettimi il termine Un cecchino A millimetro Che cosa dicevo Sul time frame 15 minuti Io mi sono accorto Anche 3 o 4 candele dopo Quindi un'ora dopo Perché ero incasinato Io avevo messo L'ordine Buy long Con leva 10 Avevo messo A 18.6 Poi ho visto che Sniper Già segnava I pallini bianchi Cioè dice Leo Buy long Ok Quando comodo Da viola bianco Cose semplici Lui ti dice Buy long Era a 18.800 E qualcosa Che ho fatto Dico Madonna Sto in giro Col telefonino Sai che faccio Sniper Mi dice così Io mi fido Non ho tempo Però diminuisco la leva L'ho dimezzata Invece che Il mio entry point A 18.6 Come da piano di trading Ho contravenuto Le regole Però Mi sono fidato Gli indicatori Che come vedi Questi sono i risultati Un 10% Che non fa sicuramente schifo Per the king Sul bitcoin Sniper Aveva flashato 3 o 4 pallini bianchi Ho diminuito la leva E sono entrato long al mercato E questo è il risultato Un 10% Portato a casa Come vedi Prima c'era l'8% Qui c'è pure Marco Che fa i suoi risultati Una cosa eccezionale Vedi sulle crypto 60% Questa è una vetrina Adesso siamo partiti Perché ce le chiedevate In tanti Questo gruppo pubblico ACI69 Trading Ti invito A cercarlo su telegram E scriverti gratis Perché è gratuito Pubblichiamo un po' I nostri guadagni Ogni tanto diamo Io non dico dei segnali Perché non sono segnali E non sono utili I segnali Perché? Perché Dai a un uomo Una canna da pesca Come diceva Il vecchio adagio Insegnagli a pescare E avrà da mangiare Il cibo Per tutta la vita Se invece a quell'uomo Ti dai pesci Quando te ne vai Perché magari Dicevo Sai che Ci fermiamo un mese Ci prendiamo una vacanza Andiamo dall'altra parte del mondo E te che fai senza segnali Invece Devi iniziare a imparare A ragionare con la tua testa Quindi per questo Da qui ai prossimi mesi Oltre a pubblicare Insomma i guadagni Vedi anche short Perché si guadagna Anche con short Questa sniper Vedi il nostro Il nostro cecchino Vedi ha impallinato tutto Anche oggi ha impallinato Bitcoin Più il 10% Rune Vedi tutti short Perché quando il mercato Va in giù Si guadagna Facendo short Più il 113% Di profitto Questo sarà anche un mezzo segnale Dacci un'occhiata Io spero E credo Che ti daremo valore aggiunto Da qui ai prossimi mesi Per farti capire Anche che cosa c'è Dall'altra parte Nei gruppi riservati Di trading Se ti va Non sono aperti a tutti Solo per pochi Quindi ci conosceremo Scrivimi un'email A daci69trading Chiocciola gmail.com E parlami di te Metti come oggetto Gruppi riservati di trading E se ci piaci Iniziare a far parte Di questo progetto E dei gruppi riservati Che non sono gratis Questo ti avverto Questo invece È il gruppo gratis Spero di averti dato Valore aggiunto Pollice all'insù Condividi questo corso Da eo Daci69trading Videoripetizioni.com Ultima cosa Non meno importante Passati qua A prendere I tre corsi gratis Metti il tuo nome E la tua migliore email Clicchi qua E ricevi comodamente Gratis Tre corsi Che credo Spero ti diano Un eccellente valore aggiunto Un caro saluto Ci vediamo alla prossima Chissà Magari da qualche altra parte Del mondo Per farti vedere un po' Dove vado in vacanza Spero che ti piacerà Un caro saluto Ciao